illustriamo qui il restauro di un cassettone direttorio della fine del settecento il cassettone ha i cassetti in pioppo la struttura è a tutte in noce è l'astronato in noce olivo e ha dei filetti debano è arrivato a noi sano ma con le lastre sollevate in molti punti e quindi è stato completamente sono state rimosse le lastre dove dove cantavano dove non erano più coerenti tra loro e sono state riposizionate correttamente incollate nella fascia sottopiano abbiamo dovuto rilastronare tutto un bordo perché aveva delle lastre non pertinenti fatto questo il mobile è stato fessurato dove c'era dove ce n'era di bisogno è stato stuccato lucidato lucidato particolarmente bene la lucidatura è durata veramente molto perché dopo esser stato ben ingrassato l'abbiamo stuccato levigato rilucidato ristuccato così via le maniglie sono state sistemate anche loro perché avevano i fermi oramai mangiati li abbiamo ripostruiti in ottone la serratura mancava ne abbiamo adattata una giusto per ridare la funzionalità necessaria al cassetto alla fine il cassettone è ritornato al suo antico splendore tutto questo l'artefice di tutto questo è stato marco girardi il nostro e bagnista